Stori storici di Gioca Bologna Suona e quindi io sono di grande piacere qua con voi. E infatti anche l'imitatore, il bestiale ha sempre portato delle mie imitazioni, quest'anno ho portato delle imitazioni sul palco, ma la cosa più importante per me è questo evento di grande solidarietà che è venita magicamente ogni anno a Ballero del Crone con tutto lo staff. Allora è come se fossi Gianni Moranti, adesso. Allora, se arrivasse Gianni Moranti, adesso credo. Ciao ragazzi, buongiorno, quest'anno mi raccomando non potete mancare a questo grande appuntamento e mi raccomando il 3 e 4 settembre in Piazza Maggiore, stiamo uniti, eh? Il Vito si ha. Poi se ritassi a Vittorio Scarni. Ecco, in questo momento è un evento così importante dove si rappresenta l'arte e la cultura e lo vedete che Bologna è estremamente viva dal punto di vista artistico e non è una tua volta che ci sono le gare, ma ci sono le gare, le gare e il Paglucenico. Grazie. Mi raccomando, non c'è la tua volta, non c'è la tua volta.